Fratelli d'Italia presenta i nuovi ingressi in partito. Maurizio Giancola, ex sindaco di Scafa, e Fabio Di Venanzio, ex vice sindaco, attualmente consigliari di opposizione del comune di Scafa, con Manuela Di Fiore, capogruppo Fratelli d'Italia in comune. In previsione delle regionali del 2024 si lavora sui territori in ascolto con i cittadini e gli amministratori al fine di rappresentare al meglio le necessità, secondo quanto dichiarato dall'onorevole Guerino Testa durante la conferenza stampa. Si entra perché ci sono delle doti, delle qualità importanti, che Maurizio Giancola e Fabio Di Venanzio, che sono i nuovi ingressi che vanno ad aggiungersi a Manuela, l'ex assessora delle politiche sociali a Valentino Giganti, hanno dimostrato grandissima qualità, grandissima affidabilità, hanno fatto la storia del comune di Scafa e c'è la loro amministrazione, viene ricordata ancora con grande simpatia perché tanti sono stati temi che hanno affrontato con grande successo. L'obiettivo è strutturare il partito sul territorio nel miglior modo possibile, portando la nostra esperienza amministrativa decennale e la conoscenza del territorio. E poi sui temi del sociale, della sanità, delle riconversioni industriali e delle infrastrutture, noi vogliamo un grande impegno da parte del partito che già c'è e abbiamo la garanzia del Presidente Marsilio e dell'onorevole Testa che si stanno occupando di questi problemi in maniera diretta. Quindi con dieci anni di amministrazione comunale in un territorio non semplice, anzi difficilissimo, da sempre governato dal centro-sinistra, il nostro contributo in termini di esperienza politica e amministrativa la mettiamo a disposizione del partito.